Presidente, prenderò anche meno tempo. Io volevo sottolineare, riguardo all'intervento della consigliera Baglio, dell'importanza invece della relazione annuale, perché è pur vero che è auspicabile che ci sia sempre di più parità tra uomo e donna, però tanto iniziamo a partecipare alla commissione delle lette, iniziamo ad apportare, a dare dei nostri contributi. La relazione è proprio questo, ha come fine, cioè in sostanza certifica un'attività svolta da parte della commissione, quindi tutti gli atti che vengono esplicati attraverso la relazione si può vedere effettivamente con dati concreti l'attività stessa della commissione. Precedentemente questo non avveniva e quindi se volevi capire cosa una commissione faceva dovevi andarti a rivedere tutti i verbali, a percorrere a ritroso tutta l'attività attraverso i verbali e non la stessa relazione che metteva in evidenza l'attività. Quindi è chiaro che tutti noi ci auguriamo sempre di più in un percorso di parità tra uomo e donna, però tanto cominciamo a partecipare alle commissioni, a dare gli apporti e a portare delle soluzioni, ma ad analizzare la situazione e a vedere cosa avviene attraverso una relazione che evidenzi appunto le criticità e tutti i dati.